Ok ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Forse non lo sapete perché non rispondo sempre ai commenti che lasciate, ma li leggo praticamente tutti. Solitamente rispondo solo a quelli iscritti nelle prime ore dopo che è stato pubblicato un video, semplicemente per questione di tempo. Ma ci tengo comunque a guardarli perché, come dico alla fine di ogni video, mi piace confrontarmi e sapere cosa ne pensate. Bene, stamattina stavo controllando i commenti e ne ho trovato uno, anzi più di uno in realtà, che hanno attirato la mia attenzione. Molto spesso nei commenti o su Instagram mi chiedete quanti insulti mi arrivino per i video che faccio e vi rispondo sempre davvero molto pochi, praticamente nessuno. E se da un lato è una cosa positiva, dall'altro mi dispiace perché mi diverto sempre quando ricevo commenti del genere, tipo quello che leggeremo oggi, che è stato scritto nell'ultimo video della faccenda di Sonic. Ed eccolo, quello che non ha capito, non vuole capire e che commenta una cosa del genere sotto questo video. Spero inquadri il target di questo canale, quindicenni che non sanno niente di politica, diritto, problemi sociali né tanto meno di cose del genere. E che si informano da uno che fa gameplay di God of War mentre fa cherry picking e una narrazione romanzata e drammatica degna della peggiore Fox News. Solo per polarizzare e sfruttare a scopo di lucro e polarizzare la corrente giovane alt-right di questo paese. Se volete da oggi potete chiamarmi Twiner oppure CEO dell'alt-right italiano. Secondo questa persona ho Benito e Adolf nei DM che mi chiedono consigli su come fare un colpo di stato. È curioso che questo soggetto mi accusi di essere dell'estrema destra quando la politica è letteralmente un argomento che non ho mai trattato su questo canale. E non ho mai nemmeno detto il mio orientamento politico, ma immagino che l'abbia deciso lui. Un po' come quello che mi aveva dato dell'omofobo nonostante sull'LGBT non abbia mai detto praticamente nulla. Se non commentare singoli casi che chiaramente non rappresentano tutta una community. Quello che faccio è commentare cose ridicole che mi capita di vedere su internet. Mi spiace che esista gente così limitata da pensare che se qualcuno critica un estremo significa che è per forza dell'estremo opposto. Forse te la sei presa così tanto perché ti rivedi nelle persone di cui parlo nei video. Dato che quel video ha ricevuto diversi commenti da persone che pur essendo trans non erano minimamente d'accordo con quella del video. God of War sembra che non ti sia piaciuto quindi ho deciso di cambiare gioco, forse più il tuo genere. Una cosa interessante è che questo commento insieme ad un'altra decina che sono stati scritti sempre da questa persona, sono stati pubblicati di sabato alle 3 di notte. Mi dispiace che tu sia così triste da sfogare la tua frustrazione nei commenti del mio canale quando tutti gli altri stavano dormendo oppure erano fuori a divertirsi. Ma spero che almeno abbia funzionato e che ora tu ti senta meglio. Sappi che sono con te e ti mando un abbraccio forte. Comunque l'avrete letto dal titolo o dalla copertina, oggi parleremo di Squid Game. Sono sicuro che sappiate tutti cos'è questa serie, nell'ultimo periodo è letteralmente esplosa. I profili degli attori hanno guadagnato decine di milioni di followers in pochi giorni e non si poteva entrare su un social senza vedere almeno un post o un video di questa serie. L'ho guardata anch'io anche se inizialmente ero un po' indeciso e devo dire che mi è piaciuta parecchio. Certo, come qualcuno ha già detto non è perfetta ma è comunque un'ottima serie ed è piaciuta praticamente tutte le persone a cui l'ho consigliata. E il motivo è che fondamentalmente è fatta bene sotto quasi ogni punto di vista. In un certo senso ha salvato Netflix da un periodo in cui non faceva uscire niente di davvero bello. Chiaramente non poteva piacere a tutti e fin qui ci mancherebbe altro, ognuno ai suoi gusti. Ma qui non parliamo di gusti personali ma di genitori che vorrebbero cancellare la serie perché la ritengono pericolosa per i loro figli. Non farò nessuno spoiler della serie anche perché non sopporto la gente che lo fa. Ma per chi non l'avesse ancora vista vi dico brevemente di cosa tratta perché è importante per capire ciò che andremo a leggere. Centinaia di individui che per diversi motivi si trovano a corto di denaro decidono di accettare un invito a competere in diversi giochi per bambini. Se vincono ricevono un importante premio in denaro ma se perdono la posta in gioco è mortale. La serie l'ho vista e ha diverse scene che sì sono abbastanza violente ma comunque niente di straordinario. È classificata come vietata ai minori di 14 anni e sono abbastanza d'accordo con questa scelta. Ma nonostante i limiti d'età questi genitori sono talmente motivati a censurare questa serie che hanno addirittura fatto una petizione. Una petizione per fermare la serie Squid Game lanciata su Change.org e diretta dalla Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza della Fondazione Carolina. Le petizioni su Change.org credo che più che altro facciano ridere. Primo perché Netflix sono abbastanza sicuro che non gli interessi che un paio di migliaia di persone vorrebbero censurare la loro serie più popolare di sempre. E secondo perché le petizioni lanciate su quel sito non penso che abbiano mai portato a qualcosa di concreto. Anche se dovessero raggiungere un numero di firme abbastanza alto non mi viene in mente nessun caso in cui una petizione online di questo tipo abbia davvero raggiunto il suo scopo. Comunque la petizione è arrivata a 8000 firme nel momento in cui sto registrando molti più di quelle che pensavo onestamente il che è abbastanza preoccupante ma direi di dare un'occhiata alle motivazioni che stanno dietro questa loro voglia di cancellare Squid Game. Di fronte allo sgomento di mamme e maestre delle scuole materne non bastano i buoni propositi ma serve un'azione concreta. Mio figlio ha picchiato la sua amichetta mentre giocava Squid Game. A mia figlia hanno rovesciato lo zaino fuori dalla finestra dell'aula perché ha perso a Squid Game. Non vuole più uscire di casa. I miei figli non sono stati invitati alla festa del loro compagno perché non vogliono giocare a Squid Game. Sono solo alcune delle testimonianze arrivate a Fondazione Carolina. Un campione allarmante rispetto ad una serie che racconta violenza, alienazione e dipendenze con la semplicità dei giochi di infanzia. Mi pare la stessa identica storia di quando volevano fermare videogiochi perché istigherebbero alla violenza. Quelli che si comportano da bulli l'avrebbero fatto anche senza Squid Game. Semplicemente questa serie è la moda del momento e come hanno sempre fatto i bambini la imitano. Squid Game non ha il messaggio implicito che potrebbe spingere i bambini a comportarsi male. Assolutamente no. Semplicemente chi era già propenso a comportarsi in questo modo e probabilmente lo faceva anche già, ora lo fa imitando ciò che ha visto in questa serie. Effettivamente sì, ci sono delle scene di violenza come dicono loro, ma come ho già detto non è niente di particolarmente scioccante. C'è sicuramente roba peggiore in giro. Ma soprattutto il problema non si dovrebbe neanche porre perché è vietata ai minori di 14 anni. Il che ci porta al vero problema, cioè ai genitori. Se non sei in grado di badare a tuo figlio educandolo a comportarsi come si deve e non sai nemmeno controllare ciò che guarda sul telefono, forse potresti giungere alla conclusione che non bisognerebbe censurare una serie in tutta Italia, ma dovresti essere tu a darti una svegliata. A questo punto l'unica soluzione possibile sembra la censura a vecchio stampo. Ma sembra l'unico strumento possibile a difesa del principio di incolumità dei minori. Un'azione forte, finalizzata a sensibilizzare genitori e istituzioni, più che a censurare una pellicola. Sì, certamente, l'unica soluzione è la censura. Se non sbaglio in passato la censura mi pare che non abbia mai funzionato troppo bene. È bello che in tutto questo la responsabilità dei genitori non è minimamente menzionata. Perché in fondo si sa, la colpa è sempre di GTA o Squid Game di turno, o addirittura dei testi musicali fino a qualche anno fa. Pensavo che questi ragionamenti da Boomer fossero ormai solo un brutto ricordo, ma evidentemente no e ci accompagneranno ancora per un bel po' di tempo. A quanto pare troppo bello non assumersi mai le responsabilità e scaricare la colpa su qualcos'altro. Invece di lamentarsi di quanto questa serie sia cattiva, potrebbero invece sfruttarla guardandola insieme ai loro figli e spiegandogli cosa è giusto e cosa no, dato che sicuramente ne verranno a sapere visto che è famosissima. Tanto vale guardarla e usarla per insegnare qualcosa. O ancora meglio e a questa non ci avranno mai pensato perché in effetti non è così immediata, potrebbero rispettare i limiti d'età che ha messo Netflix e non farla guardare i bambini con meno di 14 anni. Capisco che effettivamente questa soluzione potrebbe essere un po' difficile per quei genitori che credono che educare il loro figlio voglia dire dagli il telefono in mano a due anni e aspettare che venga educato da ciò che vede su internet. Però incredibilmente anche questa è un'opzione. Anche perché il loro ragionamento potrebbe essere applicato a praticamente qualsiasi film o serie che non sia stata fatta esclusivamente per i bambini. Se per esempio Fight Club fosse uscito in questi giorni avrebbero fatto una petizione perché i bambini si picchiavano per imitarlo? O qualsiasi altro film che a scene violente andrebbe censurato? Anche se in realtà in questi casi sono opere che hanno un messaggio importante, come Squid Game che bene o male è una metafora del mondo in cui viviamo tutti. Se la soluzione fosse davvero la censura vorrebbe dire che dovremmo far vivere i bambini in una bolla dove tutti sono felici e contenti e non c'è mai nulla di brutto ma prima o poi dovranno scoprire il mondo reale. E giusto per avere una prova di quanto la censura sia prima di tutto aberrante ma anche completamente inutile, non siamo stati gli unici che abbiamo pensato di censurare Squid Game. La Cina, che è sicuramente un paese da cui prendere spunto per la libertà di espressione, ci ha pensato prima di noi e ha censurato questa serie. Lo spettacolo vietato in Cina è stato apparentemente visto da milioni di spettatori cinesi. La distribuzione illegale di Squid Game in Cina è cresciuta a tal punto che l'ambasciatore sudcoreano ha detto che la serie è stata trasmesse legalmente in streaming su 60 siti web cinesi. Inoltre gli utenti hanno discusso apertamente dello spettacolo utilizzando l'hashtag Squid Game su app di social media cinesi. Secondo quanto riferito, post e commenti sono stati visualizzati oltre 2 milioni di volte. Se questa non è una dimostrazione che la censura non avrebbe alcun senso, non so proprio cosa sia. Forse la cosa più giusta sarebbe comportarsi da genitori e assumersi le proprie responsabilità. Per quanto capisco che possa essere difficile, non credo che potranno sempre incolpare qualcos'altro per la loro negligenza, perché prima o poi finiranno le serie e i videogiochi da accusare. Beh, che dire, ringrazio Dio di non aver avuto genitori di questo tipo. Comunque, anche per oggi questo è tutto ciò che penso di questa storia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Seguitemi anche su Instagram, il link è in descrizione e direi che ci becchiamo settimana prossima con un nuovo video.